permesso disturbo ha portato una cosa che ti potrebbe servire guarda guarda tieni una bella tastiera apriamo questo che dovrebbe essere un mouse sono dei biscottini questi biscottini per cani anche il mouse è molto bello va bene può servire mi attiva la pelle un bel mouse andiamo a provare vediamo già due tasti e altri qua acqua c'è un tasto le tasti qua andiamo da provare prendi andiamo adesso adesso devo siciliani anche su roblox tutte e due il mouse è infatti piano piano se funziona perché non siamo sicuri che funziona come va così aspetta che c'è aspetta ma perché l'hai preso adesso io dico perché questo mi ha portato a buona buona non possiamo mangiare buono buona che cazzo non cambia colore devo installare il programma allora vediamo perché la tastiera un po più in qua che ne sapeviste funzionava il lunghissimo sto giù puon giustamente no no prendiamo la spiaglia te questo ci penso fermo ho cambiato colore ah va bene ok 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 cambia colore la tastiera cambia colore così secondo me ah proprio ho spento forse insomma questo ha qualche funzione particolare oppure uguale a quella che avevi no no forse ha qualche funzione particolare che se dovresti il mouse cambia colore con un programma con un programma può cambiare colore vediamo non è molto capito non è molto da scrivania sembra molto da tappetino per mouse allora la tastiera intanto funziona mouse anche bene ah va bene funziona io dico chi mi ha portato qua io manco la carota io manco la carota riesco a trasportare guarda cosa gli diciamo a tutti i tuoi amici che se mettono tanto i mi piace facciamo un altro video con un altro regalino quanto mi piace devono mettere centomila mi piace centomila mi impossibile ma ci accontentiamo anche di mille mi piace è vero? no centomila centomila e vediamo se te non mi piace gli faccio un video oppure magari scrivono nei commenti cosa possiamo comprare cosa vogliono vedere tipo la pistola spara bolle se c'è la prossima volta la pistola spara bolle vediamo cosa dicono vediamo va bene salutiamo a tutti ciao aspetta con questo tasso raga si può cambiare colore poi ci dovrebbe essere un controllo più sette mi scambia colore fn più ti devi imparare che fai questo con un'applicazione provati bene come funziona si saluto a tutti buona giornata buona giornata e buongiorno al prossimo video al prossimo video ciao